Per nostra fortuna esistono le immagini per farci ricordare, per farci rivivere i gol più belli di sempre. Quando Cristiano Ronaldo si inventa quella fantastica rovesciata contro la Juventus, nei giorni seguenti per un attimo si ruba la scena Enzo Francescoli. A dare a tale calciatore sarà Diego Simeone. Durante una conferenza stampa alla domanda su cosa pensasse del gol di Cristiano, Simeone risponderà molto meglio quello di Enzo e il febbraio del 1986 il River Plate affronta la Polonia inamichevole. L'idolo di Zinedine Zidane, sì perché Enzo Francescoli è stato l'idolo di Zinedine Zidane, farà tre gol, l'ultimo una vera e propria opera d'arte, stop a volo, cilena spettacolare. Per i 30.000 presenti allo stadio, il gol più bello visto nella loro vita.